E' intervenuto il reparto sommozzatori dei vigili del fuoco per trarre in salvo una coppia di anziani che aveva cercato riparo in una casa di via ripuaria. La strada, allagata a causa dell'esuntazione del sarno, stava indiottendo anche la vettura sulla quale erano a bordo i signori, i quali, temendo di rimanere in panne, hanno svoltato al primo vicolo in cerca di un soccorso. Chiamati proprio dalla famiglia che ha ospitato la coppia, i vigili del fuoco sono intervenuti e, grazie ad un piccolo gommone, hanno raggiunto il posto indicato, fatto salire gli anziani, uno dei quali, l'uomo, era claudicante, e portatoli in salvo. Per la loro macchina si dovrà attendere l'abbassamento del livello dell'acqua, un livello che, ad ogni violento acquazzone, si alza sempre di più, paralizzando un'area nevralgica, come quella di Rovigliano, punto di snodo fra Castellammare, Torre Annunziata e Pompei, per veicoli e soprattutto camion e tir. L'area è stata presidiata anche dai vigili urbani e dalla protezione civile non soltanto per vigilare e per aiutare i dipendenti delle aziende con l'ingresso allagato ad uscire, ma anche per evitare incidenti agli automobilisti. Superate le transenne nonostante il divieto, ai conducenti di questa vettura grigia e di questa panda azzurra non è andata benissimo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati per prestare soccorso agli anziani, avevano notato le due macchine in panne, ferme sul ciglio della strada. La loro piccola imbarcazione si è attivata per salvare anche loro.